Nel centenario della nascita di Emanuele Luzzati, Genova organizza un programma di eventi per rendere omaggio al grande artista scomparso il 26 gennaio 2007. Si inizia il 3 giugno nel giorno del compleanno di Luzzati con un calendario di iniziative che porteranno la sua arte, i suoi colori, la sua energia nelle strade, nei parchi e nei palazzi di tutta la città in una grande festa collettiva che proseguirà sino a fine anno. Un insieme di attività culturali che verranno fatte proprio per celebrare il centenario della nascita di Luzzati. Andremo a fare alcune mostre, alcuni eventi in collaborazione con il Teatro della Tosse, quindi i palazzi della città verranno illuminati di colori attraverso quell'effetto un po' energico e magico che erano gli stessi colori dei capolavori e dei lavori di Luzzati. Verrà allestita una mostra al Palazzo della Borsa e poi anche verrà finalmente inaugurata a Casa Luzzati che prenderà luogo appunto al Palazzo Ducale. È un omaggio credo doveroso perché è stata una delle più grandi personalità che hanno dato lustro a Genova a livello internazionale negli ultimi cento anni. È stato un lavoro non semplice perché i tempi per organizzare qualunque cosa sono difficili per tutti, però siamo arrivati finalmente alla fine grazie al Comune, Regione, insieme a Luzzati Foundation, a Sergio Noverini che rappresenta gli eredi, si è pensato di fare questo importante omaggio a Luzzati attraverso una serie di iniziative anche molto articolate. Per quanto riguarda la fondazione noi lavoreremo, abbiamo pensato una mostra a 360 gradi, una videoproiezione a 360 gradi immersiva al Palazzo della Borsa e una grande galleria di musica e suoni e naturalmente grandi immagini sulle facciate di Agaribaldi e poi tante altre iniziative che speriamo possano dare il restituire un po' di quello che Luzzati ha dato alla città e che la città giustamente ha voluto restituirgli almeno in piccola parte per il grande lavoro fatto. Tantissime le iniziative, noi abbiamo pensato di non fermarci soltanto a questo 3 giugno di cui ha parlato Emanuele, ma andremo avanti anche durante tutta l'estate e portando anche in scena quello che è il nostro lavoro, il nostro tipico modo di lavorare e di fare spettacolo. Quindi tra gli eventi abbiamo un flauto magico, uno spettacolo che sarà curato da Emanuele Conte con gli attori del Teatro della Tosse che faremo alla Villa Duchessa di Galliera a partire dal 20 di luglio e sarà un omaggio al mondo visivo di Luzzati partendo da un tema a lui molto caro che è il flauto magico e la musica di Mozart. Poi dopo l'estate andremo ancora avanti riprendendo la Luzzati Experience, portandola nei nostri spazi in modo tale da poterla aprire ai ragazzi delle scuole e farla fino a dicembre e continueremo a lavorare con laboratori, con incontri. Non ci fermiamo, abbiamo deciso noi di dedicare tutto il nostro 2021 alla figura di Emanuele Luzzati a cui dobbiamo tanto e a cui vogliamo restituire tutto quello che ci ha dato e farci da ponte perché la città gli restituisca tutto quello che lui ha dato alla città. Vogliamo fare in modo che al di là delle mostre che verranno allestite all'interno di luoghi culturali come appunto il Palazzo della Borsa e all'interno di Palazzo Ducale si possa vivere veramente a cielo aperto e respirare proprio quell'effetto un po' magico e quell'effetto energico, quell'effetto di forza e di vita che Luzzati e i suoi colori voleva trasmettere.